Accendi Soffiare? Soffiare? Ecco, bravi Mangiavola che si squai Ma dov'è il coltellaccio? Ehi, Ivano sta lavorando Senti, ma... Senti, ma quanti anni hai con tuta che non ho visto oggi? Dai, 54 Eh no, dimmelo tu E tu, Befana, quanti anni hai con tuta? 53 Ma quelle torte chi le ha fatte? Quale? Questa e quelle due Questa chi le ha fatte? E questa? E quella? E questi? E questi? E questi? E buona, tutto Oma, cusù! E, eh, eh, oi! E, eh, 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 eh... E, eh, eh... Uff, uff, uff... Perciò! 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 Dove stai andando? No, niente, tranquilli, è una festa! Gira, gira! Gira, gira! Gira, gira, gira! Gira, gira! Ma che bravi, ma guardate che bravi! E c'è anche una siciliana che balla lo sardo! Di armi iscritti! O uniti sì, che ho, han ripiti È anche una sol OMovità Un rischioпрim honour E su malone E su malone E su malone e su malone Põeci a tutti i savori O uniti sì! Buongiorno! non c'è luce è proprio un sardo una cosa seria ma quella luce marco marco allora no no una cosa seria una cosa seria domani dovete partire adesso dovete fare un augurio particolare a queste due giovanote ornella e pensa che compiano gli anni pensa che fa 54 beffane ornella 53 e insomma voi visto siete venuti qua per l'occasione perché cosa sei venuto qua per lavorare per lavorare a tutti voi non soltanto alle nuove peffane a tutti auguro veramente tutto quello che desiderate e anche festeggiando insieme l'anno prossimo in saluta senza raffreddori e senza piedi rotti grazie ti ricordo che questo qui è anche l'anno dei miei 50 anni mi ha 50 anni che vero allora benvenuto negli anta grazie nel mezzo secolo e io avevo 55 come dico? a maggio anche tu va bene quando tu con i miei 50 anni e io 55 ricordati di me ok? un bacione a maggio anche tu hai sentito i miei progetti? certo ce l'ho sentito dove andiamo?